In città abbiamo rispetto ai 112 ragazzini di ieri 70 ulteriori indicazioni che sono arrivati dalla direzione didattica per cui complessivamente di ragazzi isolati oggi ce ne sono 182. Tutti gli alunni della scuola primaria Montebianco di Arezzo in quarantena dopo il caso del tampone positivo riscontrato sulla maestra 51enne che insegna lì sale anche il numero di adulti riferiti proprio alla scuola. In quarantena ad oggi sono 32 compreso il dirigente scolastico. Per i genitori non è stato preso alcun provvedimento. I contatti dei contatti non sono da ricercare, non ha nessun senso perché il contatto di per sé è una persona sana che è soltanto messa per precauzione in isolamento. Quindi non può riguardare a sua volta a catena i familiari dei bambini che sono in quarantena. Per alcuni bambini che presentavano sintomatologia e anche per i loro genitori sono stati disposti dei tamponi. Ripeto, la situazione non è grave ma è da grande attenzione perché dobbiamo in tutti i modi evitare di diventare una città rossa. In città sono 260 le persone in isolamento preventivo mentre per quello che riguarda i tamponi positivi e accertati salgono adesso a 8 in tutto il territorio aretino. L'ultimo caso, il primo in Val di Chiana, è un uomo di Foiano della Chiana. Il tampone è stato effettuato all'ospedale della Fratta e adesso l'uomo si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Donato di Arezzo.